Siamo qui alla tenda, la terza giornata di Matt, siamo qui con il professor Gianfranco Luffi dell'ASL Torino 3 e oggi lei ha parlato in particolare del progetto IESA, ci può spiegare in cosa consiste e quali sono anche i vantaggi di questo progetto rispetto agli altri? Il progetto IESA che presso l'ASL Torino 3 di cui faccio parte ha assunto l'organizzazione di servizio, mette in atto un semplice principio, quello di eleggere a luogo di cure l'abitazione di un cittadino che ha una stanza in più da mettere a disposizione, quindi in alternativa o complementare ad altri tipi di percorsi di cura, quello di creare una continuità fra il percorso di cura e quello che sarà poi il dopo, la dimissione. Un percorso di cura fatto in una struttura residenziale separata dalla società dovrà fare poi i conti nel momento di una dimissione con un salto in una realtà complessa, articolata, qual è la quotidianità, un percorso di cura reso all'interno di un nucleo che è quello familiare nello specifico, che fa parte del tessuto sociale, non farà i conti poi con questo scalino che spesso è poi difficile da salire. Quindi questa è la peculiarità che contraddistingue il progetto IESA da altri percorsi di cura di tipo residenziale. Dal punto di vista degli esiti in questi vent'anni abbiamo registrato davvero dei percorsi riabilitativi, dei percorsi di cura di un certo profilo, di una certa forza e tutto questo a fronte di un aspetto di costi economico anche interessante per quella che è la pubblica amministrazione e soprattutto per noi cittadini che paghiamo le tasse e che siamo desiderosi che le nostre tasse finiscano ad essere in qualche modo investite in un modo efficace e non ad essere dispersi. Infatti la seconda domanda che le vogliamo fare è anche i vantaggi non solo per le persone che effettivamente trovano un nuovo modo, ma anche i vantaggi economici che ha questa situazione rispetto ai ricoveri più generali, più normali. Sì, da ricerche fatte emerge come si possa parlare di un'equivalenza di tre possibili percorsi di cura attraverso IESA in alternativa ad uno in strutture protette. Quindi da un punto di vista anche dell'allargamento dell'offerta di cura alla popolazione si può parlare di un servizio virtuoso, perché comunque si triplica, in molti casi si raddoppia, in alcuni si triplica l'offerta di cura nei confronti della popolazione e soprattutto sottolineo non soltanto all'aspetto economico, ma anche quello qualitativo del tipo di cura che viene messo in atto. Ringraziamo Gianfranco Valuffi e ciao da Arodi Liberamente.